Noi abbiamo iniziato con un piccolo libricino chiamato Invertire l'invecchiamento nel 2006, per la prima volta in Italia con quel libro abbiamo dato l'informazione dell'acqua alcalina, perché prima di quell'anno, prima di quella pubblicazione nessuno conosceva l'acqua alcalina in Italia e il titolo era Invertire l'invecchiamento, fu un grande successo editoriale perché la gioventù, la giovinezza piace a tutti e allora abbiamo seminato. Dopo quel libro si sente bene laggiù? No, e come facciamo? Alzo la voce, forse il microfono perché la voce è quella, se no lascio e lascio. Allora facciamo così, speriamo che in giro non ci distraggono molto, dopo Invertire abbiamo fatto il miracolo, che vedete qui la copertina? Bene, il miracolo ha fatto emergere il bisogno dell'equilibrio acido-basico. In effetti abbiamo fatto in 5 anni 40.000 volumi copie che in questo settore sono tantissimi, perché un libro viene venduto o se è di tema di romanzi, di gianni, oppure se è un tema facile, non impegnativo sulla salute. Per cui aver fatto in 5 anni 40.000 copie è un grande successo, vuol dire che il messaggio è stato accattivante. Bene, come nessun libro, come nessuno di noi può essere esaustivo, perché siamo tutti limitati nella nostra esperienza, ho sentito l'esigenza di implementare le informazioni contenute del miracolo. Ed eccoci qua con l'altro libro, Alcalinizatevi, che è già arrivato alla quarta ristampa, anche qui con grandi interesse, e io se ci fosse qui qualche lettore del miracolo, e di Alcalinizatevi, chiaramente li ringrazierei perché io sto qui perché qualcuno legge, perché se qualcuno non avesse letto i miei libri, chiaramente no, io non starei qui. Ma la cosa più importante è che chi legge un libro, non il mio libro, il libro, e poi non fa suo il contenuto, a poco serve aver letto quel libro, soprattutto sulla tematica salute. Io leggo il libro più bello di questo mondo, però non applico quei principi contenuti in quel libro a cosa è servito. Sì, a impiegare un po' del mio tempo, ma niente di più. Però ecco, la nostra soddisfazione è che, e qui in giro c'è gente, la cui testimonianza sta qui dentro, grazie al contenuto di questo libro, è l'applicazione dei principi di questo libro, oggi è fiero di averli applicati perché la salute è ritornata, la felicità in famiglia è ritornata, eccetera. Quindi l'applicazione di un principio fa la differenza tra la lettura e la teoria. Infatti io sono molto affezionato a Galilei Galilei che diceva vale più un'esperienza vera che mille ragioni. Cioè che noi possiamo scrivere mille libri, leggere mille libri, discutere di mille opinioni, ma se poi non applichiamo un qualcosa, a poco serve. Quindi l'esperienza è quello che fa la differenza, ok? In tutto il nostro stile di vita. Allora anche questo era limitato, è limitato perché come ho detto prima non esiste la perfezione, non esiste la completezza. E allora perché questo? leggendo il primo libro, leggendo il secondo libro, leggendo il terzo libro, ho ascoltato le osservazioni dei miei lettori e allora eccomi qua al quarto libro, gli scolaretti adesso li devo, perché disturbate? perché condurre un filo logico, io non vi sto leggendo il diapositivo, vedrete come parlo io, non leggo il diapositivo. Quindi c'è un filo logico che poi salta, però se vedo il disturbo tra di voi salto, arrivo alla fine della conferenza e vi saluto. perché voi salto anch'io, no? Sono cose importantissime, quindi ascoltate che vi cambia la vita, vi cambierà la vita se applicate quello che vi dico, ok? Allora, si lamentavano delle diete americane che è presente nei libri precedenti, ok, vi accontento. il libro è pronto, il contenuto, stiamo aspettando la veste grafica perché deve essere oltre che importante come contenuto ma anche bello e qui una bozza, non è la copertina, probabilmente sarà diversa la copertina, una bozza di copertina del prossimo libro che vi aiuterà ad applicare il sistema dell'alcalinità con l'acqua, già lo sappiamo, attraverso gli altri libri precedenti, col cibo attraverso il prossimo libro. Quindi, in qualche modo, vi sto anticipando che fra poco avrete a disposizione un altro strumento applicativo per entrare nella dimensione alcalina, perché ormai è certo e risaputo che l'alcalinità fa parte della costituzione biochimica e poi dico emozionale e spirituale del uomo e viceversa l'acidità, l'acidosi purtroppo è una condizione di veragliamento, di allontanamento da questa nostra condizione biochimica, biofisica, spirituale. Premessa così giusto per rompere il ghiaccio e quindi veniamo un po' a qualche nozione. Sicuramente noi non avremo il tempo oggi di sviscerare né il tema del libro né il contenuto delle diapositive. Non c'è il tempo, però ecco il mio desiderio è quello di stimolarvi alla ricerca, di incuriosirvi su questa tematica altamente proficua per migliorare il nostro sistema di vita, la nostra condizione di salute. Ed ecco qua, un principio che mi è caro, questo giusto per allontanare l'illusione che ci possa essere che ci possa essere la pillola magica, il rimedio magico, la soluzione magica per ogni nostro problema. non c'è una sola cosa, non c'è una sola cosa magica. E allora ecco qua, la salute e la malattia sono due processi biologici esclusivi degli esseri viventi. Cioè se abbiamo di fronte un cadavere non c'è soluzione magica, non c'è nell'acqua calina, nel cibo calino, nella che? Non esiste niente che possa far rivivere questo cadavere. Se noi siamo in una condizione di irreversibilità, di condizione fisica, non c'è rimedio che ci possa salvare. Ecco perché il tema del mio discorso, del mio lavoro è la prevenzione primaria innanzitutto. Cioè cercare di non arrivare a quel punto di non ritorno, di irreversibilità delle nostre condizioni. Questo è il primo tema. Il secondo tema è che se proprio non è troppo tardi, il più delle volte è possibile recuperare una condizione critica di salute. Basta rispettare la nostra fisiologia. E vedete come la penso. La salute e la guarigione sono due processi di organismi forti. Cioè se l'organismo è forte c'è la salute o la guarigione veloce. Pensate ai bambini, come si ammalano, subito guariscono. Pensate all'anziano, pensate alla febbre di un bambino, alla febbre di un anziano. I bambini in poco tempo si riprende, l'anziano ci mette molto di più per recuperare. Perché c'è molta vitalità, reattività in più il bambino rispetto all'anziano. Quindi la nostra condizione è di salute e di autoguarigione. Purtroppo con il tempo l'organismo si indebolisce in tutte le sue componenti, in tutti i suoi sistemi. Ed è, ecco qua, il compromesso. La malattia cronica degenerativa, la quale cosa è abbastanza positiva. Mica è una cosa cattiva la malattia cronica degenerativa. Noi combattiamo la malattia come se fosse una cosa negativa. E qui il nostro errore concettuale, perché la malattia, non dico che è una benedizione, ma è una strategia di sopravvivenza intelligente del corpo. Voi immaginate se non ci fosse la malattia. Noi avremmo la nascita da una parte, la morte dall'altra. Senso questo cuscinetto che io chiamo vitale, la malattia io la chiamo un ammortizzatore vitale. Voi immaginate se noi potremmo sopportare una vita dove qui siamo felici, gioiosi e immediatamente dopo, dall'altra parte, siamo morti, stecchiti per terra. Come sarebbe orribile la vita degli umani se qui abbiamo un bambino che nasce e patapum abbiamo il papà che muore. Qui abbiamo il figlio in piena salute e qui patapum abbiamo lo stesso figlio o l'altro figlio, cadavere. Sarebbe orribile, sarebbe invivibile la nostra vita. Per cui io dico che la malattia dal punto di vista dell'economia generale, dell'intelligenza somatica, è una benedizione. Perché grazie alla malattia abbiamo il tempo, il modo di recuperare quella salute persa. Quindi è già un'ottica, una visione un po' dispostante da quella generale. Ma è una mia invenzione o è qualcosa che già si sapeva nell'antichità? Questo è il mio concetto. Io lo esprimo in modo più moderno, perché vivo in una condizione moderna, ma già Ippocrate 2500 anni fa lo diceva. Medicus cura, cioè il medico, tutti gli operatori della salute aiutano, vanno incontro al malato. Ma chi guarisce è la forza interiore, che lo chiama vis medicatrix natura. Cioè la guarigione non è merito mio, non è merito del farmaco, non è merito di nessuno. È solo merito dell'organismo vivente. Perché se non è vivente, non guarirà e non risusciterà. E allora, su queste, così concludiamo, su queste premesse poi andiamo nel vivo. La vita è un dono. Penso che nessuno di noi l'abbia chiesto a papà e a mamma di nascere. Ce l'hanno donata, la vita, però la salute e la guarigione sono un premio di madre natura per il rispetto delle regole fisiologiche, biofisiologiche. E quindi, se cominciamo a prendere consapevolezza di queste informazioni e proviamo a applicarle nella nostra vita, probabilmente la nostra vita cambierà sicuramente in meglio. Questa è la diapositiva che è qui, giusto per farvela leggere, perché la sapete, per farvi ricordare una nostra condizione, non c'è bisogno che vi spieghi che siamo fatti del 70% di acqua. Lo sappiamo tutti? Ecco, però una piccola precisazione. Se noi siamo fatti di acqua, immaginiamoci uno stagno o un lago, no? Di cosa ha bisogno questo stagno, questo lago, affinché l'acqua sia bella, no? Un lago pulita, funzionale, ha bisogno di essere ricambiato. I laghi hanno, no? Un emissario, un emissario. Cioè l'acqua viene sempre rinnovata. Ecco la differenza tra uno stagno, no? Di acqua ferma, che impudridisce, E un lago, o che riceve acqua sorgiva da sotto, o che, appunto, ha i fiumi che rinnovano il contenuto. Bene, noi siamo dei contenitori d'acqua ambulanti, dico. Perché ambulanti? Perché camminiamo, ci muoviamo, no? Non siamo statici. Quindi, e poiché l'acqua del nostro corpo comunque si sporca, perché c'è un metabolismo cellulare e organico, abbiamo bisogno di rinnovare l'acqua del nostro corpo. Come? Bevendo in primis. Poi, come fare a non sporcare l'acqua del nostro corpo? Mangiando in un modo diverso. E ora vediamo. Quanta acqua dobbiamo bere per rinnovare l'acqua del nostro corpo? Qui c'è un'indicazione di massima, minima, minima, che ci aiuta a ricambiare l'acqua del nostro corpo. 30 cc per ogni chilogrammo di peso corporeo. Ma questo è il minimo, non è il massimo. Questo è il minimo come, no? Per soddisfare il metabolismo basale, cioè il ricambio basale. Ok? Bene. 70 chili, 2 litri è qualcosa. Un quintale, 3 litri. Ok. È il minimo. Vediamo quando bere di più e perché bere di più. Acqua o l'acqua frutta? Acqua. Ora vediamo come. Tutti i medici dicono che dobbiamo bere di più e lì di acqua. Allora, perché l'acqua? Poi le tisane, poi fatevi i succhi, fatevi quello che volete. Perché l'acqua? Perché l'acqua è sicuramente deve essere un'acqua di qualità. Questo poi, forse alla fine riusciremo a parlarne. Dico forse perché è un tema che non si può svolgere così in un'oretta. Però io vi stimolo poi per approfondire, no? L'acqua deve avere la caratteristica di legarsi alle tossine per poterle portare fuori. Deve essere in grado di legarsi all'ossigeno per andare a ossigenare la cellula. Quindi se l'acqua è legata, e potremmo dire ossidata, giusto per trovare un tema così, non ha il modo di legarsi per fare da trasporto. Perché la funzione principale dell'acqua è fare da trasporto intra-extracellulare. Quindi l'acqua più è pura e più svolge questo ruolo. L'acqua più è ionizzata, è il tema che portiamo avanti, più è capace di legarsi all'ossigeno prima e alle scorie dopo. Quindi più è acqua viva, più è capace di svolgere il ruolo di ricambio dell'acqua di cui siamo composti, il 70% d'acqua. Perché è importante reintegrare il contenuto, la quantità di quest'acqua? Perché noi siamo questa struttura fatta, basata su una struttura, io dico pneumoidraulica, infatti poi vedremo, nella depositiva successiva, che i ricercatori, non so come hanno fatto, ipotizzano che il nostro corpo contiene ben 100.000 km di vasi tra arterie, vene e capillari. Bene, l'80%, cioè 80.000 km di questi canali è rappresentato dai capillari. E' qui il tallone da chile della nostra salute. E quando i capillari saltano, nella loro morfologia, salta anche il loro ruolo funzionale, e chiaramente il trasporto si intoppa. Perché se l'acqua non entra dentro, voi potete bere tutta l'acqua che volete. Io conosco donne, spero che non ce ne siano qui, per loro, che bevono l'acqua, dopo 5 minuti devono andare a urinare. Non è fisiologico. L'acqua deve essere trattenuta almeno un'ora. E allora possiamo dire che quell'acqua ha fatto un'azione funzionale sul corpo. Sono tantissime donne, chiedete in giro le amiche, le amiche, tantissime donne, soprattutto gli uomini, che bevono e devono correre a urinare. Perché? Perché il sistema microcircolatorio rappresentato dai capillari è intoppato e chiuso e stenosizzato in qualche modo. Quindi l'acqua entra nel macrocircolo, poiché abbiamo una capacità elastica ben definita, il surplus attraverso il parametro urinario viene eliminato attraverso l'urina. E pur bevendo litri di acqua rimaniamo disidratati. Le cellule rimangono disidratate. E qui abbiamo il problema evidenziato. L'1% di carenza idrica nella cellula corrisponde al 10% di funzionalità in meno per quella cellula. E' come dire che il motore perde il 10% di potenza, il 2%, il 20%, il 10% bisogna correre ripari perché altrimenti c'è una morte immediata. Ecco perché è importante l'acqua. Quando voi non sentite la sete, sapete che significa? Che il vostro apparato, gola, gastrointestinale, soprattutto le cellule che abbiamo qui in bocca, dell'epitelio, della cosa buccale e della gola, dell'esofoto, hanno perso la loro capacità idrica, quindi la loro funzione, il loro ruolo di trasmettere il messaggio neuronale al cervello per darvi la sensazione di sete, non ce l'hanno più. Quindi il circolo vizioso, soprattutto frequente negli anziani, che sono massimamente disidratati, ma non hanno sete e quindi non si bere. Invece, fatevi violenza per una settimana, bevete anche senza sete e dopo una settimana voi avrete una sete tremenda. Perché? Perché avete ripristinata la carenza di quell'1, 2%, 3% di acqua nelle cellule della gola, della mucosa buccale e pergola, che ripristinerà la sua funzione neurotrasmettitrice al cervello della sensazione di sete e quindi vi chiederà l'acqua da bere. Ok? Bene. Dovete cominciare a provare a fare qualcosa per cercare di cambiare. Questo ve l'ho detto prima, ecco al limite, la prossima volta vi faccio vedere prima questa e poi l'altra diapositiva. Qui abbiamo il sistema circolatorio rappresentato con la necessità di irrorare, far circolare l'acqua. Quindi l'apporto, lo scambio a livello intra-extracellulare prevede una funzionalità più precisa possibile, più importante possibile, dei nostri sistemi circolatori che sono il venoso, l'arterioso e il linfatico. E' il linfatico. Poiché si parla sempre di cibo, e io dico che si parla troppo di cibo, così una piccola osservazione su quali sono i carburanti necessari al nostro corpo, al nostro motore. Lì li vedete esposti, noi li possiamo sviscerare perché non c'è tempo, ma capite che se noi ci mettiamo al buio, possiamo avere tutto il cibo di questo mondo, tutto l'acqua di questo mondo, stiamo in una scatola, in una stanza al buio, dopo una settimana impazziamo e tranquillamente moriamo presto, il buio, quindi la luce è tanto importante quanto l'acqua, il cibo, eccetera, però soffermiamoci su quello che ci interessa. La lettera D, pochi additivi chiamo io, cioè approfondiamo con qualche diapositiva successiva, cosa indico con pochi additivi. Quando parleremo del latte materno vi spiegherò quali sono questi pochi additivi che praticamente sono circa il 10% tra zuccheri, grassi, proteine e quant'altro rispetto al 90% del latte materno. E allora qual è il cibo principale e più importante per noi? Qual è il carburante più importante per noi? È l'acqua, perché l'amico ha fatto l'errore che facevo io, l'ossigeno, certo, è essenziale l'ossigeno, ma se non c'è acqua il trasporto dell'ossigeno è inficiato, perché l'ossigeno che respira e che viene legato all'engoglubina nei polmoni, se c'è carenza di trasporto al mio mignolino non arriva, il mio mignolo va in cancrena, muore. Se quell'ossigeno non arriva al cervello, muore la persona. Quindi sì, l'ossigeno, ma senza acqua, nessun altro carburante arriva a destinazione. Non so se mi sono spiegato infatti, fate mente locale, è certo che è importante l'ossigeno. L'acqua, il sangue per oltre il 90% è acqua. Ecco, giusto per, no? Come il latte materno, il latte materno, l'88% è acqua, il sangue, possiamo dire, il 91-92% è acqua, il plasma, la parte corpuscolare del sangue è intorno al 10%. Molto simile alla composizione dell'arte materno come, no? Liquido è corpuscolo, cioè è sostanza solida. Quindi andiamo avanti. Qui, e questa è la diapositiva, scusate, che affronterebbe un tema molto discutibile con le nostre conoscenze attuali, anche abbastanza profonde, di professionisti, che tra di voi probabilmente ci sono. E' un dato di fatto, anche se è difficile ammetterlo, che il 90% dell'energia, la cellula, e quindi il corpo in generale, la riceve nell'acqua. Da questo processo, che avviene nella cellula, e il 10% avviene dalla scomposizione di zuccheri, che noi consideriamo il carburante più importante nella nostra cultura. Quindi è difficile, finché non cambiamo, no? Prospettiva, rinunciare al nostro piatto di pasta. Che noi siamo convinti dentro che il piatto di pasta ci serve. Siamo convinti dentro che la nostra fettina ci serve. Siamo convinti che ci serve la vitamina. Adesso forse, forse cominciamo a aumentare, a allargare la nostra prospettiva, tanto da ammettere che forse ci serve introdurre più acqua. Ma questa prospettiva è giustificabile. è molto giustificabile se accettiamo l'ipotesi, l'ipotesi comprovata. Che il nostro motore cellulare va ad acqua. Così, giusto per darvi un esempio. Ma voi pensate che il maratoneta mi faccia i 40 chilometri con le barrette di cioccolata o riesce a fare i 40 chilometri perché ogni 5-6 chilometri trova la bottiglietta d'acqua degli sponsor e continua a bere correndo. Chiedete a chi fa maratona. Chi è che lo porta, no? Al traguardo. L'acqua o le barrette di cioccolato o l'amminoacido o l'integratore è l'acqua perché l'acqua dentro la cellula sviluppa questa energia perché altrimenti non si giustificherebbe come mai Jeanne Praled quel santone indiano che da 70 anni non mangia e non beve non so se chi di voi ha visto i servizi a report qualche anno fa lui afferma che da 70 anni non mangia e non beve ha avuto questo dono da ragazzino 7 anni circa è arrivato a 80 anni quindi è cresciuto non ha ingerito proteine come noi siamo certi che la proteina forma il corpo è plastica una materia plastica che ci fa crescere e come è cresciuto questo santone da 7 anni a 80 anni senza le proteine perché se non ha mangiato non ha bevuto da dove l'ha preso le proteine? le proteine le ha elaborate la sua cellula attraverso l'assunzione dell'azioto atmosferico certo non è una cosa per tutti non tutti riusciamo a fare questo perché se non mangiamo dopo tot moriamo se non beviamo dopo tot moriamo ma perché non abbiamo dentro la prospettiva delle nostre capacità perché se noi siccome dicono gli scienziati noi adesso forse sfruttiamo il 10% forse il 5% delle nostre potenzialità e tutti il resto il 95% di potenzialità dove sta? non sappiamo non li conosciamo allora stiamo su quello che è comprobabile e adesso io questa mia uscita strana ve la voglio così approfondire o perlomeno ve la voglio allargare più che approfondire con questa ricerca di questi ricercatori che questi ricercatori hanno fatto hanno scoperto 8-9 tipi di batteri che si nutrono di elettroni voi sapete che l'elettrone è corrente elettrica non è molecolare è energia bene ci sono dei batteri hanno scoperto questa è la fotografia non si vede bene perché purtroppo c'è questa cosa qui questa luce forte qui se poi vi avvicinate questa è una fotografia fatta a microscopio che la vedo molto ingrandita addirittura hanno visto che questi batteri si nutrono di elettroni e sono in grado di mettersi in fila tanto da creare un filo una continuità per trasmettere corrente elettrica come se fossero un filo di rame questa è la scienza che va avanti che cerca di spiegare però quello è il problema che se questa ricerca rimane nel cassetto voi non la conoscerete mai come la ricerca che dimostra che il 90% dell'energia avviene attraverso la protolisi nella cellula e finché non c'è un pazzo come me che ve la dice voi non la conoscerete mai ma sono ricerche fatte non pubblicate non diffuso o perlomeno pubblicate ma non diffuse perché per diffondere una idea ci deve essere un interesse il mio interesse è dargli il libro no che me ne frega a me del libro con l'1% che mi fa guardare cioè l'1% 5% che mi fa guadagnare ma credizioni divento ricco no è perché dentro io c'ho una motivazione una motivazione seria personale perché 25 anni fa io ero spacciato come o perlomeno un caso degenerativo per la medicina ufficiale e quindi sicuramente da 25 anni a mo non avrei resistito no che sarei scoppiato sarei morto oggi grazie ad altre prospettive ad altri parametri sto qua a dirvela a raccontarvela ad essere d'esempio d'aiuto per chi volesse fare un percorso diverso io sto qui non per imporre qualcosa o la mia opinione ma per trasmettervi la mia esperienza ok bene se non ci fossero queste realtà no perché dentro noi non ci conosciamo bene i ricercatori dicono che noi abbiamo dentro dieci volte più batteri che cellule umane allora qual è il senso dell'antibiotico perché io devo prendere l'antibiotico per ammazzare i batteri se la natura ne ha messo dieci volte più di quello che sono le nostre cellule i batteri cioè l'antibiotico ammazza pure l'eventuale dico eventuale batterio nocivo ma anche questi signori che creano energia nella cellula e i batteri più conosciuti ma meno riconosciuti sono i mitocondri perché i mitocondri sono dei batteri ce ne abbiamo un migliaio per ogni cellula i quali trasformano l'energia elettrica elettromagnetica in ATP in adenosina trifosfacea in sostanza organica e noi quando prendiamo l'antibiotico ammazziamo anche i batteri che stanno dentro l'aceto ammazziamo alteriamo la funzionalità dei mitocondri e quindi è logico usare i carri armati i cannoni quando noi siamo in una condizione di squilibrio di salute forse no io conosco gente al di là di me e della mia famiglia ma conosco tanta gente che applicando il mio metodo la febbre del bambino passa in 36 ore l'influenza in 3-4 giorni un aborto liberarsi di un feto morto 3 giorni di digiuno va via si pulisce l'organismo si pulisce l'utero perché gli animali voi pensate che non fanno aborti in natura anche allora succede l'aborto ma perché se vedete nelle foreste i veterinari animali che vanno a pulire vanno a fare gli interventi no la natura pulisce pulisce tutto è organizzata per essere autonoma e io non accetto a livello di principio che l'animale abbia la capacità di auto gestire la propria salute e l'uomo l'essere più organizzato e più intelligente della no scala evolutiva debba aver bisogno del suo medico per affrontare i suoi problemi di salute il medico il medico se c'è qui qualche collega medico lo invito a riflettere e diventare loro maestri non interventisti maestri di salute maestri di salute io ho una laurea americana in scienza della salute che non lo so se mai arriverà in Italia perché noi abbiamo tutte le specialità di tutte le malattie di questo mondo specialiste di malattie i medici dovrebbero cominciare a diventare specialiste della salute quindi insegnare la salute dimostrare la salute questo è cambio no che dobbiamo fare e allora non lo so non lo so chi di voi mi porta forse fra poco ci faranno smettere se viene qualche altro no però ecco velocemente qual è il mio parametro allora siamo tutti professori oggi con internet siamo tutti professori siamo tutti bravi sappiamo tutto di tutto di più allora ma dove sta la verità si dentro di noi sta nella natura per quanto riguarda le verità nutrizionali sta qua nella tema terna il vostro bambino vi cresce con latte materno in sei mesi raddoppi il peso ma non solo raddoppi il peso diventa intelligente perché poi si muove riconosce comincia a parlare no comincia a fare ci cresce si evolve si evolve a che cosa con che cosa l'88% è acqua ritorniamo al discorso di prima noi siamo un motore a livello cellulare composto di acqua e abbiamo bisogno di acqua per funzionare e allora vediamo se noi mangiamo questa poi la recuperiamo di questa diapositiva se riusciamo a parlare di alcalinità il perché dell'alcalinità non perché qualcuno vi vuole vedere qualcosa quella ipotesi di vendita di marketing è basata su condizioni di causa poi la riprendiamo e lo andiamo qua queste sono altre velocemente io non commento guardate quello che noi mangiamo queste sono le medie degli ingredienti dei cibi che noi mangiamo e qui abbiamo il parametro di confronto a cui dovremmo tendere non esiste perfezione a cui dovremmo tendere avvicinarci perché la strada maestra non è Rocco Panisano non è Calabrese non è Duca non è la guida è madre natura il latte materno l'istinto che abbiamo perso l'istinto che abbiamo perso allora vedete un po' se siamo vicini e quanto siamo a lottare vediamo un'altra depositiva formaggi insaccati frequente nelle taure degli italiani quanto si discosta prendiamo un'altra cereale e derivati tanto amati dagli italiani siamo mangiatori di pasta siamo pastaglioni adesso abbiamo il riso abbiamo l'oro fino a 30 anni 40 anni fa era pasta e legumi legumi e pasta un po' di patate non conoscevamo il riso l'avena la quinoa il meglio tutti questi cereali differenti comunque tutti i cereali derivati hanno questa composizione media ecco ho fatto le medie è vicino a questa composizione con l'atteno terno sicuramente no e anche le gubi importanti nella nostra alimentazione sicuramente no i semi oleosi a chi non piacciono le mandorle le noci le luciolini i pistacchi le arachini a chi non piacciono ma pensate che ci siano correlazioni fisiologiche decisamente no e allora dicevo stamattina degli amici che non esiste il cibo ideale per l'adulto mentre per il lattante c'è il latte materno per l'adulto non c'è il pomo ideale non esiste un cibo ideale però noi possiamo sulla scorta di questa conoscenza possiamo costruirci un pasto ideale bene io ho individuato applicando oltre che osservando da appena 25 anni applicando questa proporzione frutta verdura con l'aggiunta del 10% di seme oleosi ecco qua non è uguale non è identica non è ma molto molto vicino allora io cosa voglio dirvi che questa è la dieta perfetta no io dico che è una dieta ottimale che potete sperimentare per vedere cosa succede nel vostro corpo ma ve la dovete sperimentare voi perché se io io e 100 persone possiamo in qualche modo accontentarci del 10% di seme oleosi può darsi che a qualcuno ne passano 5 a qualche altro ce ne vogliono 12 il criterio qual è che non dobbiamo allontanarci molto da questi parametri e in effetti io vi do adesso sono cose che queste scritte nel prossimo libro la cui copertina promissoria l'avete vista là con l'invantaggio che qui giorno dopo giorno vi accompagno come fare colazione come fare pranzo come fare cena non è un libro di una raccolta di ricette è un libro dove vi dico come fare la colazione e vi dico cosa come fare il pranzo e vi dico cosa e come come fare la cena eccetera e vi guido variando i menù secondo le stagioni in modo da avere una varietà nutrizionale allora ecco qua quali sono i cibi acidi che potremmo dire i cibi nutritivi perché noi sappiamo inversamente quelli nutritivi allora facendo l'inverso i cibi che contengono meno del 50% di acqua sono acidi quindi antinutritivi e viceversa che quelli che contengono più del 50% di acqua cominciano a essere nutritivi e così via per i zuccheri le proteine e i grassi e comunque ecco qua proteine e grassi eccetera comunque andiamo avanti ecco qua un concetto generale il cibo ideale deve avere queste caratteristiche perché queste caratteristiche tra l'altro una caratteristica no al punto 3 difficile da recepire in toto e d'altro anche io non vi posso dire che dovete mangiare solo esclusivamente crudo perché adesso noi siamo collocati in una zona geografica dove non è possibile mangiare completamente crudo potevamo esserlo in questa condizione all'equatore quando noi siamo stati in qualche modo da chi non sappiamo creati e vivevamo come Adam e Eva no nudi la simbologia no del peccato che poi sono coperti genitali cioè noi dovevamo vivere all'aria in modo da nutrirsi di aria di ossigeno di raggi raggi cosmici solari come tutti gli altri animali solo gli uomini si vestono certo all'equatore all'equatore ci affacciamo a stare nudi al polo nord chiaramente no d'estate si che andiamo nudi andiamo a mare siamo in campagna e siamo nudi no ma d'inverno non è che andiamo nudi perché noi ci siamo allontanati dal nostro habitat naturale passiamo avanti veloci vediamo un po' ecco ancora sul cibo queste sono altre caratteristiche vediamo se parliamo un po' di acqua perché penso che è importante parlare di acqua cioè qual è quell'acqua fisiologica che significa fisiologica che possa essere assorbita prima dagli organi e poi assimilata dalle cellule che significa assimilata diventare se stesso diventare no la stessa cosa perché se l'acqua entra ed esce come vi ho detto prima non viene assorbita e assimilata entra ed esce e basta ma l'acqua deve essere assorbita per diventare l'impalcatura del nostro corpo perché noi cosa siamo siamo detto prima un contenitore ambulante cioè che ci muoviamo un contenitore pieno d'acqua come si mantiene in piede quest'acqua questo contenitore voi prendete un contenitore d'acqua prendete un certo volume d'acqua lo mettete in un pallone e l'acqua prende la forma si deforma perché questo pallone non ha un potere contenente di quest'acqua quindi si deforma come mai noi per il 70% acqua rimaniamo in piedi non ci defogliamo chi mantiene unite queste molecole d'acqua sono i minerali i minerali che fanno ponte con i legami idrogeno e ossigeno e fanno un reticolo a cui poi si legono le proteine a cui si legono poi le altre sostanze organiche ma se noi togliamo questa impalcatura che appunto ho fatto di acqua e minerali perché da giovani belli prestanti e poi da vecchietti perché abbiamo perso acqua e minerali cos'è l'osteoporosi l'osteoporosi è il risultato di una carenza d'acqua e di minerali il corpo si rattrappisce la statura diminuisce tutto si restringe carenza d'acqua e minerali quindi il corpo si mantiene in piedi la nostra struttura si mantiene funzionale grazie all'acqua e minerali e i minerali sicuramente hanno la differenza quali sono migliori degli altri bene servono tutti non pensate che ci siano minerali buoni e minerali cattivi perché i minerali quelli che conosciamo servono tutti anche quelli chiamati oligoelementi perché non hanno un peso del nostro corpo molto importanti perché sono in micro micro dosi bene all'osservazione chimica vediamo che il latte materno ha una leggera prevalenza di minerali alcalini che sono questi alla vostra destra calcio potassio sodio magnesio e ferro rispetto ai minerali acidi che sono il fosforo e il cloro e l'ozolfo che sono importanti uno più importante degli altri dell'altro ma servono tutti e due ma alla fine devono essere in leggera prevalenza quelli alcalini su questo presupposto oggi noi fondiamo la nostra ipotesi di una alimentazione alcalina e dico alimentazione comprendendo l'acqua perché è il primo alimento ve l'ho detto poc'anzi ve l'ho detto fino adesso il primo alimento è l'acqua cioè chiariamo bene il primo alimento o meglio il primo elemento nutrizionale e l'acqua poi tutto il resto e allora a questo punto noi visto queste premesse abbiamo fondato la nostra ipotesi di lavoro che è appunto basata sull'acqua alcalina e sull'alimentazione alcalina ma non è un'ipotesi di lavoro teorico a tavolino è praticamente il resoconto la constatazione e il riassunto di anni di osservazione che io ho fatto da 25 anni ma quelle prima di me le hanno fatte per secoli e millenni quindi io non ho scoperto niente ma ho solo verificato sulla persona quella che è la verità che madre natura ci mette a disposizione e allora che cos'è chi adesso visto che il tempo sta stringendo e sicuramente ci sono gli altri due domande poi resto io sono a disposizione lì in privato potete farmi tutte le domande che volete no? due domande su quella che abbiamo spiegato fino adesso sulle altre 30-40 diapositive non possiamo fare domande perché non sapete e comunque come premessa qui questo libro trovate il primo studio scientifico fatto in Italia è la bontà dell'acqua alcalina quindi non stiamo vendendo frottole ma stiamo dando opportunità di lavoro allora ho visto una mano alzata abbondiamo abbondiamo tre litri minimo allora così giusto rispondiamo rispondiamo perché è giusto questa domanda voi dovete valutare il fabbisogno quindi diminuire o aumentare le due componenti acqua frutta e verdura a secondo altri parametri allora un eccesso di frutta è un problema io ci stavo lasciando le penne perché per tre anni ho mangiato solo frutta tre anni solo frutta lavorando 16 ore al giorno ci stavo lasciando le penne non avevo un maestro che mi guidasse ho fatto a mio rischio il pericolo non so se qui c'è qualcuno di voi che ha la colite mi fai mangiare le verdure che ha la colite ma lo mandi in diarrea dalla mattina alla sera allora quant'acqua e quanta verdura poi va valutata soppesata in base ai vari fabbisogni comunque i parametri di giudizio sono il benessere se la persona si sente bene quello è il suo parametro giusto ok due due perché questi ci sono altri gelatori poi mi chiedete mi chiedete fuori poi a livello privato lei prima diceva che spesso le persone bevono ma poi non trattengono l'acqua si come si risolve il problema ah ecco si brava 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 si fa un lavoro si fa un lavoro che prevede l'idratazione ma non con semplice acqua perché abbiamo visto che la bevi la bevi ecco attraverso tre elementi esercizio fisico calore e bevande vive acidificanti sono gli estratti di frutta e verdura vivi freschi perché c'è una diapositiva che mi permetterebbe di farvelo capire ma non abbiamo il tempo perché il succo vivo contiene acidi organici che si tramutano in acido carbonico l'acido carbonico è una molecola che non è mai stabile crea un micro massaggio cellulare e quindi piano piano mi apre i capillari e basta una settimana che io comincio assieme a tre cose poi se ti fai aiutare con un bel infodenaggio un bel massaggio ho tanto di guadagnare chiuso peccato Grazie a tutti